Ehi ragazzi, io sono Callari e oggi siamo qui ancora in un video leak dove andremo a leggere Primo un leak di WitherZZZ che mi manda sempre leak su Instagram A proposito pagina Instagram e canale Telegram in descrizione E poi altri leak che ho trovato in giro per internet Detto questo devi iniziare subitissimo Leggiamo il leak di Wither dove dice I Pokémon, come in passato è successo con Spinda, hanno molteplici variazioni estetiche Pur essendo della stessa specie Questo allungherebbe la meccanica di catturli tutti Esiste una location molto simile ad una giungla Nella quale Sylvan, un personaggio non protagonista Scappa da qualcosa o qualcuno I Pokémon hanno ancora 4 mosse ciascuno Ma ciò non vuol dire che il sistema di lotta sia variato Quindi ragazzi, si dice in questo leak In pratica che il sistema di lotta dovrebbe variare Anche se i Pokémon hanno sempre 4 mosse Cosa è molto interessante, direi E adesso inoltre direi appunto di andare a leggere gli altri leak In questo leak si dice che l'annuncio dei giochi è molto vicino Probabilmente verranno svelati entro la fine di marzo Cosa molto bella direi anche La localizzazione italiana della nuova regione è Meania Quindi la località dei giu Cosa sarà appunto l'Italia? Si tratterebbe sicuramente del nome italiano Pochi nomi inglesi hanno sempre avuto una O Al loro interno del nome Come parlo male, madonna Esiste un Pokémon grassottero di tipo erba Caratterizzato da una faccia particolarmente strana Che ha il fuoco negli occhi Chissà cosa vorrà dire però Interpretate come volete Magari ditemi come lo interpretate nei commenti Varie città della nuova regione hanno un nome asiatico E sembra che il cibo locale Kottu Possa essere un riferimento a un cibo che realmente si stende allo Sri Lanka Non solo Sri Lanka che ci abbia a che fare con l'Italia Però va bene E niente ragazzi Questi erano tutti i leak di oggi Spero vi abbiano incuriosito Che dire Solto quello del leak entro a fine marzo È molto molto interessante Io direi che se il video vi è piaciuto Vi lasciate anche un bel like Commento, condivisione E se non vi iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Ciao